All'inizio del libro quattordicesimo Odisseo giunge alla capanna del porcaro Eumeo e la lunga descrizione del misero ambiente si interrompe con l'abbaiare dei cani che corrono verso il mendicante, il quale si sta avvicinando alla povera dimora. Sorprende il fatto che già nelle prime parole di Eumeo ricorra la memoria del padrone disperso e dunque ci è subito dichiarata la fedeltà del guardiano di porci e il suo affetto per l'eroe non più ritornato. Esemplare la dinamica dell'ospitalità attuata da Eumeo il quale pur privo di ogni ricchezza subito invita lo straniero nella sua tenda e gli offre ristoro rispettando così in modo perfetto il rituale dell'ospitalità che rimane sostanzialmente lo stesso in una ricca dimora di nobili o nella misera capanna di un pastore. Non è la ricchezza che conta, bensì la coscienza che chi giunge potrebbe essere una divinità, commista peraltro alla consapevolezza che bisognoso non è solo colui che arriva, ma anche, e in ciò ci sorprende la mentalità degli antichi, colui che attende trovandosi in casa propria, colui che attende che qualcosa di nuovo arrivi davanti alla soglia della sua casa, qualcosa che possa riempire per così dire l'attesa che l'uomo stesso riconosce di essere. Odisseo dunque gioisce dinnanzi all'ospitalità mostrata dal porcaro e ne nasce un breve dialogo nel quale di nuovo Eumeo giunge a dare cenno del suo caro sovrano che egli però ritiene ormai perduto lontano da casa. Ma avrebbe fatto gran bene il mio re se invecchiava tra noi, dice Eumeo. Lui pure infatti andò per l'onore da Gamennone a Ilio dai bei Puledri per combattere i Teucri. Detto questo Eumeo esce e prepara il pasto allo straniero, raccontando frattanto la situazione difficile in cui si trova, dovendo custodire le mandrie del padrone lontano e al contempo fornirne una parte alla prepotenza dei pretendenti che pieni di arroganza occupano la dimora di quello, divorando i suoi beni. Mentre l'ospite termina il pasto e il porcaro gli porge di nuovo il calice colmo divino, Odisseo proseguendo nelle sue false sembianze gli chiede ulteriori notizie sul suo padrone. Ed Eumeo gli confida che molti uomini giungono, ipocriti, a ingannare sua moglie dichiarando di averlo veduto o di conoscerne la sorte. E lei fa buona accoglienza, dice Eumeo, l'ospita, chiede ogni cosa e tra i singhiozzi le cadono giù dagli occhi le lacrime. Ma presto si svela l'inganno, sembra dire il porcaro, dichiarando il suo pensiero. Rapide cagni e uccelli han già strappato la pelle dalle sue ossa, l'ha abbandonato la vita, o forse in mare lo divorano i pesci, e le sue ossa giacciono sulla riva di molta sabbia coperte. È morto così chissà dove. Dice Eumeo che ancora una volta nelle parole seguenti conferma il suo affetto per il padrone che crede lontano. Mai più troverò dovunque vada un così dolce signore. Il desiderio del lontano Odisseo mi soggioga. A nominarlo straniero, benché non ci sia, ho riverenza, molto mamava e mi curava di cuore. E io chiamo fratello, benché sia lontano. Come vediamo, mentre il precedente libro è attraversato dal bellissimo dialogo tra Odisseo e Atena, questo è dominato invece da quello tra Odisseo ed Eumeo. Prima il rapporto con la divinità, ora il rapporto con l'ultimo dei servitori. Il libro successivo, infine, sarà caratterizzato dal dialogo tra Odisseo e il figlio Telemaco. È a questo punto che Odisseo, cogliendo rassegnazione nelle parole del porcaro, gli svela che il suo padrone tornerà. Io ti dirò, non leggermente, ma con giuramento, che Odisseo tornerà. Al finire del mese o al principiare del mese tornerà a casa e punirà tutti quelli che qui disonorano la sua sposa e il suo figlio. Ma Eumeo non vuole credergli e rimane nelle sue convinzioni. Ora via, a tuo piacere bevi e parliamo d'altro. A questo non farmi pensare più, perché il cuore nel petto è straziato quando qualcuno ricorda l'amato padrone. Il dialogo prosegue con la domanda di Eumeo, che chiede all'ospite la sua identità. Odisseo risponde che troppo lungo sarebbe narrare tutte le vicissitudini che ha attraversato. Non facilmente, dice, anche in un anno intero finirei di narrarti le pene del mio cuore, tutto quanto ho sofferto per volere dei numi. E prosegue il racconto fingendosi un nobile proveniente da Creta, abilmente intessendo una trama articolata con verosimiglianza e dovizia di particolari. La lunga e falsa narrazione di Odisseo lo vede identificarsi in un cretese, il quale dopo aver partecipato alla guerra di Troia ed essere tornato in patria, decide di far viaggio in Egitto con molti compagni, dove però, in seguito ad una battaglia cruenta, viene messo in salvo dal re, presso il quale rimane per sette anni, finché viene portato via da un nobile fenicio, presso il quale risiede per un altro anno. Diretti poi in Libia, dove sarebbe stato venduto come schiavo, Odisseo dice che un naufragio avrebbe distrutto le navi e si giunge così tra inenarrabili fatiche alla terra dei Tesproti, dove lo straniero afferma che ha incontrato il figlio del re, evidente richiamo nascosto all'incontro con Nausicaa, che lo ha condotto al palazzo del padre. Qui lo straniero afferma aver ricevuto notizie di Odisseo, affermando, mi disse quel re d'averlo accolto e ospitato, e mi giurava, libando nella sua sala, che era già in mare la nave e pronti i compagni per ricondurlo alla terra dei padri. Odisseo si inventa poi l'ultimo frangente di questo ampio e articolato racconto, dicendo che il re aveva dato ordine di ricondurlo in patria, ma i marinai ordirono un inganno contro di lui, maltrattandolo e legandolo come uno schiavo, finché egli, mentre la nave si trovava presso le coste di Itaca, sarebbe riuscito a fuggire giungendo, infine, alla capanna di Eumeo. Questa lunga narrazione, frutto dell'ingegno pronto e celere di Odisseo, vuole mettere in luce la sua astuzia, la sua capacità di architettare artifici. Eumeo ascolta con meraviglia questi racconti, si mostra ammirato, rimanendo incredulo solo per ciò che riguarda il breve cenno al ritorno di Odisseo, nel quale ormai non vuole credere più. Giungono dunque gli altri guardiani di Porci e tutti assieme allestiscono la mensa. Poi sazi di cibo vanno a dormire. Tutta la notte soffiava sempre un gran zefiro, a portatore di pioggia, scrive Omero. E Odisseo pone una domanda a Eumeo, che ulteriormente sveli la sua disponibilità nei suoi confronti. Inventa, infatti, un episodio ambientato durante la guerra, descrivendo una insidia preparata ai troiani da lui stesso, assieme a Odisseo e Menelao, nella quale i tre si trovano, secondo appunto il racconto inventato, acquattati presso le mura della città al freddo della notte. Ma lui, a differenza degli altri, aveva dimenticato il mantello, soffrendo così il freddo pungente. Il mendicante prosegue il racconto nel quale, quando il freddo diventa eccessivo, egli si rivolge a Odisseo. Gli confida le sue sofferenze per il gelo notturno e, Odisseo con astuzia, ordina allora a uno degli uomini di tornare all'accampamento, da Agamennone, per chiedere che altri Achei li raggiungano, portando rinforzi. L'uomo dunque obbedisce e va, e il mantello rimane a disposizione dell'amico, che può utilizzarlo fino all'alba. Perché il mendicante, che noi sappiamo essere Odisseo stesso, racconta ai guardiani di Porci questa seconda invenzione del suo ingegno? Eumeo intelligentemente decoglie l'analogia con la situazione presente e non nega un mantello all'ospite, avvertendolo però di non possedere preziosi tessuti, che tuttavia gli saranno donati l'indomani da Telemaco. Così il mendicante si avvolge nel mantello e si prepara a dormire, mentre Eumeo si appresta invece ad uscire, trovando un riparo vicino ai maiali, per i quali presta sempre grande attenzione, segno dell'amore per il lavoro e della fedeltà per il padrone che egli crede lontano.